signore e signori un bene ritornato tutti in fallout siamo di nuovo spavonati in questo posto di merda non ho capito il motivo ma tutte le volte che anche se il camp è a fare in culo là in alto ci spona sempre vicino alla stazione di morgantown non capisco il perché allora cosa siamo venuti a fare qua siamo venuti a fare una missione che pensavo fosse da un'altra parte nel senso che come tutti voi ben sapete una delle missioni principali è quella del registro del sovrintendente del nostro bolt che ha lasciato in giro dei diari e minchiate varie e il prossimo è alla università della voltech e poi successivamente abbiamo anche un'altra missione secondaria che è quella degli infettili inoculati come cazzo è che si chiama che dovrebbe essere quella che si chiama un minimo di prevenzione allora noi adesso qua abbiamo da fare due missioni di cui una secondaria e una principale perché l'università della voltech ho scoperto che è qua e eventualmente c'è anche l'addestramento successivo dei soccorritori adesso vediamo vediamo cosa fare devo un attimo vedere come siamo messi con dove sono gli oggetti abbiamo 142 su 170 non siamo proprio vuoti vuoti come oggettistica ma pazienza allora io volendo potrei fare un addestramento per i soccorritori il che implica che dobbiamo rientrare purtroppo in questo cazzo di posto di merda quindi armi alla mano perché qui è pieno dei stronzi e andiamo a farci sto addestramento dov'è? salve salve stia fermo un attimo non vaffanculo fermo oh sto cazzo di fucile che carica lento come non so che cosa cosa abbiamo qua? munizioni e un fucile va bene sicuramente saremo appesantiti da matti poi però pazienza allora dunque trading post perfetto traders altri non piccoglioni? no nessuno perfetto allora andiamo a farci l'addestramentos allora l'addestramento dove cazzo era? ardente what? dov'è? salve come sta? tutto posto? direi di si munizioni ho preso una scatoletta che non so che cazzo avesse dentro ma va bene lo stesso no lascia non c'entra niente l'addestramento è qua però scusi non era propriamente qua era qua vicino ma non saprei dire dove ci dovrebbero essere dei computer teoricamente usabili ma non sembra che siano qua quindi aspettate un attimo devo mica parlare col tizio no mi dice sempre le stesse frase e poi sì vabbè sì vabbè sì vabbè l'ho capito non mi dice un cazzo aspetta che cazzo è? chi? te? fermo ce n'è ancora uno dove cazzo è? qua? no? dove cazzo è? che lo sentivo parlare uff hanno lo stesso spawn si stronti non mi ricordo mai dove sono ce n'è uno lì in mezzo bello mi piace sto bug e ce n'è uno qua no eccolo ok sto iniziando a ricordarmi dove sono più o meno ah no attenti mi ero perso ok ma dove cazzo è il computer per l'addestramento puttana Eva non li trovo più erano qua fanculo vedi che sono scemo sono qua vabbè dai allora dunque prendiamoci le reazioni ok messaggi allora attestamento volontari dunque attestamento volontari c'è un attestamento bel sul cibo che tu dovresti ok ehm si va bene eroe nel chiosco bex ne frega colloqui benvenuti no non dice un cazzo e per avere l'addestramento scusi è questo di qua no messaggi e no addestamento casinato sono per scriversi le idee riceveranno un addestramento base sul cibo acqua e tutto il resto ma non riesco a minchia un altro bug di merda puttana che due coglioni minchia come son figo ma che cazzo oltre allo schiaremento di voce un po' d'acqua non fa a me male va allora quindi niente visto che di qua non possiamo non possiamo fare praticamente niente ci dedicherei che dopo un colpo nei denti c'è ancora voglia di saltare puttana che voglia ma qui ce n'erano due però aspetta o forse uno l'ho fatto secco prima cos'è binocolo allora dunque quindi vabbè abbiamo capito di qua non c'è un cazzo da fare qua non si esce quindi devo uscire da qua sotto perfetto allora adesso dobbiamo schivarci la missione quella della della farmacia la del farmacia vabbè abbiamo capito quella lì del coso della fabbrica di caramelle insomma da fabbrica di cibo e andare all'università che non mi ricordo dove cazzo è dov'è l'università devo passare davanti alla fabbrica di coso porca puttana oh salve ah il tizio c'ha sete va bene provviste ok già che ci siamo bocconcini di scogliattolo no frutto marcia no dai buttiamolo via lascia vediamo se ho qualcosa altro da buttare schumano schumano strato del saler sacca di sangue radaway potrei mangiare le patatine però non vanno male questi che sono in cura dove cazzo in voltino dolce forse viene il caso non c'è ne frega un cazzo no non ce ne frega un cazzo si non ce ne frega niente fammi uscire dall'area di missione aspetta qua c'è un ponte allora dunque se qua abbiamo il ponte dunque l'università è questa forse si sono nel posto giusto perfetto ok e qui saranno i famosi uccelli per diabetici e qui saranno affanculo sei insotterrato sto qua dov'è che salta vaffanculo tetto sorella e chi non te lo dice vabbè ho già capito che devo passare alle maniere forti o quasi eh liscio no scherzavo eh bastardo in testa te li devi prendere tutta la eva allora vediamo un po' se c'è qualcos'altro questo qua cos'hai addosso niente niente ancora niente no sì carne natura allora quindi devo per forza entrare qua dentro vediamo un po' se c'è qualche stronzo no e no perché va così a scatti sento che è un ticchettiero capisco che cazzo è vabbè vediamo cosa ci offre questa università fucile a pompa è sempre la cosa migliore negli spazi stretti minchia merda minchia livello 9 puttana sono salito di livello figo salve come sta la vedo un po' giù di morale oddio livello 9 ma nonostante tutto sono abbastanza fattibili ce ne erano due però prima li ho visti ecco ecco tiscio oh che cazzo ma riuscissi a beccarti non qua ma ti prendessi un colpo in testa come dico io fanculo minchia minchia quante radiazioni non incastrare nella porta fanculo minchia a livello 15 è bastardo quello va bene quindi dai dov'è che ci ha spagnato dimmi che non siamo vicini alla centrale elettrica lì vabbè oddio non troppo distante però prima visto che sono salito di livello apriamo il pacchetto allora probabilità contro le martie le pistele le pistele le pistele le pistele le pistele le pistele la mugolfiera ha chiesto il divorzio dal dirigibile dice che è un pallone gonfiato minchia va bene allora dunque allora per sempre non mi ha sul totale endurance carisma penso che userò questo allora dunque potrei utilizzare potrei usare questo questo qua subisce tre decine di variazioni dei cibi o bevande potrebbe essere carino usiamo questo dai allora allora dunque posso buttare posso mettere l'accumulatore qua ah carta tento già può bloccare aspetta un attimo e se io faccio errore con questo se posso buttarlo qua perfetto e qua ci metto nell'endurance allora ci mettiamo lo stomaco di piombo si ci sta e poi in agilità però non ho non ho ancora carta agilità da usare porca puttana ok il level up l'abbiamo fatto adesso ci dobbiamo soltanto andare ah dobbiamo ritornare lì dove siamo morti semplicemente è una rotura di palle ma purtroppo ci tocca allora però prima di entrare lì dentro farei allora dunque mettiamo un po' rimedio cosa fa cura una malattia perfetto e poi rimuove la cittadina aumenta se le fa probabilità di curare le mutazioni però un 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 è quasi così mi toglie pian piano le cose potrebbe essere una cosa carina allora andiamo la sfondiamo quel cazzo di goal di merda allora dunque l'evento fallito non ce ne frega assolutamente niente quindi teoricamente se noi qua avevamo già fatto tutto che cazzo è successo? ho preso dei punti esperienza così a random per cosa? allora dunque vediamo di finire sto cazzo di affare dov'è il tizio? non c'è più il tizio va bene io vado su ok gli altri subitendenti prendi c'è un point creato e dov'è il tizio da ammazzare? scusate è sparito? non so mi diceva di prendere sta affare qua quindi ah ecco era la mia morte di prima cioè ti toglie degli oggetti a random quando muore praticamente e poi se non c'è più il goal che cazzo vi devo dire? me ne ha dato sento di rumore effettivamente sento di rumore effettivamente boh vabbè si arrangerà un po' anche lui allora ascoltate andiamo prima fuori così non abbiamo rotura di scatole di goal e puttanate varie massimo ci abbiamo due ratti talpa di merda allora dunque a volte le creature serviscono in oh merda l'ho visto dopo no non ce l'ho voglia di farla quella allora allora tirate il sovrintendente si vabbè fermati non ne ho un cazzo di voglia allora dunque trova il prossimo diario a WELC oppure studia la ricerca della dottoressa allora dunque qui cosa abbiamo? attivo corred'acciaio? no registro il corred'acciaio? non ce la faccio evento rota di collisione ok non c'è più un cazzo da fare qua perché sono tutte missioni che ho già fatto tra virgolette qui c'è orda goal ferrare? no non mi sembra il caso quindi una missione ce l'ho qui in fondo e l'altra ce l'ho studio della ricerca della dottoressa Hudson che è quella del del coso quindi noi praticamente ci aspetta una lunga scamminata lungo il fiume e dobbiamo andare a fare cose quindi è notte non è proprio il massimo della felicità viaggiare in queste condizioni però si fa come si può allora dunque mentre io mi faccio il viaggio a meno che non ci sia qualcosa di estremamente interessante io opterei per abbandonarci e visto che siamo soltanto a 22 minuti di video quindi va bene e ci vediamo poi nella prossima puntata direi io intanto cerco di capire da che parte devo passare e quindi per il momento signore un saluto a tutti e alla prossima e ciao a tutti ciao 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 ciao